Grazie Grazie, buon pomeriggio a tutti e permettetemi preliminarmente un doveroso e sentito ringraziamento all'amico, al professor Massimo Viglione, presidente della Confederazione dei Triari, per questo graditissimo invito e anche per la possibilità di intervenire dopo che questa mattina due grandi maestri, tre maestri per me, Massimo, il professor Giovanni Turco e il professor Guido Vignelli sono intervenuti. Io rispetto a loro sono davvero poca cosa, quindi il mio sarà un intervento modesto, semplice, però cercherò di farlo al massimo. E quindi il tema che mi ha affidato Massimo riguarda proprio la questione del positivismo giuridico totalitario, che è espressione della rivoluzione, è una delle grandi espressioni della rivoluzione, e la risposta che in termini contro-rivoluzionari dà il buon giusnaturalismo, cioè quello classico, quello di matrice aristotelico-otomista. C'è anche un giusnaturalismo moderno, razionalistico, che però è assolutamente problematico. E allora partiamo. Voi sapete che per il pensiero classico il diritto, diritto è una parola italiana, deriva dal latino ius, directus, nel linguaggio tardo-antico, è ciò che viene comandato perché è giusto, perché è conforme alla giustizia. Ius quia iustum, diritto, qui è una proposizione subordinata causale, perché è giusto. E non solo perché iussum, perché è stato ordinato. L'ordine e il potere deve tendere a ciò che è conforme a giustizia, altrimenti per il mondo classico non siamo in presenza di diritto. Il diritto è la partecipazione della giustizia. Però, come sapete, la dottrina giuridica moderna, che trova nelle rivoluzioni, soprattutto nella rivoluzione francese del 1789, la sua più alta espressione, ha posto le premesse che poi si sono sviluppate nell'Ottocento, nel Novecento, contrariamente all'insegnamento dei giuristi antichi, il giurista Paolo, ad esempio, Giulio Paolo, Vir Prudentissimus, uno dei grandi giuristi dell'antichità insieme a Ulpiano, ecco, le rivoluzioni, la rivoluzione francese in particolare, diversamente dall'insegnamento degli antichi, dei giuristi antichi, dei giuristi romani, afferma, invece, che il diritto deriva dalla norma, dalla legge positiva. Positiva è un aggettivo, ius positum, il diritto posto dall'autorità, posto dal potere. Le rivoluzioni sono le premesse che anticipano poi lo sviluppo del positivismo giuridico vero e proprio tra Ottocento e Novecento. Ma questo positivismo, che vediamo già embrionale nella rivoluzione francese, ma che è un po' la cifra della modernità, assume già un carattere totalitario. Il positivismo non ammette discussioni, non si interroga circa il fondamento del diritto oggettivo. Il diritto è ricondotto alle norme, coincide con la norma scritta, posta dal potere. E al loro essere sistema. Quello che Kelsen chiamerà il sistema normativo geometrico legale. L'ideologia rivoluzionaria, la rivoluzione del 1789, che cosa fa? Dà un colpo mortale al diritto naturale classico. Perché il diritto prescinde dalla giustizia. Viene a crearsi una dicotomia, una frattura tra diritto e giustizia. Il diritto non è più la partecipazione della giustizia, ma è il diritto stesso che pretende di crearla. giusto e legale finiscono per coincidere. Voi mi direte, ma se io leggo la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, 26 agosto 1789, approvata dall'Assemblea nazionale costituente, che come sapete aveva preso il posto del terzo Stato, e nonostante la sostituzione di Dio e della provvidenza con l'ente supremo dei testi, non nega il diritto naturale. I diritti inviolabili dell'uomo e del cittadino sono diritti naturali, sono diritti inalienabili. Vengono dichiarati così nella dichiarazione. Cosa si deve rispondere però a questa affermazione? è la prima, che con la rivoluzione francese noi assistiamo in maniera sistematica alla positivizzazione dei diritti. I diritti contenuti nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 diventano una norma scritta, una norma positiva, e quindi sono disponibili, sono modulabili da parte del potere. La loro positivizzazione equivale alla loro modulabilità, alla loro disponibilità da parte del potere. Ma c'è un secondo riferimento. Quando la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino fa riferimento a diritti inalienabili, naturali, non fa riferimento al diritto naturale classico, fa riferimento al diritto naturale moderno, quello che si afferma a partire da Grozio e che poi si sviluppa successivamente, a cui si rifarà Hobbes, Locke. Cioè è un diritto naturale razionalistico, dove la ragione non è la ragione contemplativa che scopre delle inclinazioni naturali nella natura umana, ma è la ragione che si fa a essa stessa criterio della verità e addirittura è preeminente alla verità stessa. Ecco lo scarto tra il diritto naturale classico di matrice aristotelico-otomista e quello moderno, che già ha le sue premesse nell'occamismo. E cioè l'idea che la ragione è lei che addirittura ha una posizione preeminente, superiore alla verità stessa, è lei che crea i diritti naturali. Non è la ragione contemplativa che attraverso l'essenza scopre i fini, la tensione dell'uomo verso il bene. Capite che è un concetto di ragione completamente diverso. È la ragione della modernità. La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 26 agosto 1789, quando il generale Lafayette nell'Assemblea Nazionale Costituente che aveva preso il posto del Terzo Stato proclama quei diritti naturali, non fa riferimento al diritto naturale classico, ma al diritto naturale moderno, che è la premessa, è antessignano del positivismo. Ma l'ideologia positivista che abbiamo visto con la rivoluzione francese trova un punto di espressione alto, perché costituirà poi il presupposto per lo sviluppo dell'Ottocento, del Novecento. Quindi la riduzione a norma del diritto oggettivo è totalitaria anche in un altro senso. È totalitaria nel senso che il diritto è caratterizzato dalla effettività, cioè dal potere di imporre il rispetto di qualsiasi ordine al quale il destinatario, il cittadino, ma oggi abbiamo sentito nella lezione di Massimo questa mattina che il cittadino è una finzione, non può in alcun modo sottrarsi. Dove sta il totalitarismo? Sta nel fatto che la volontà del cittadino altro non è che la volontà dello Stato, la volontà dell'ordinamento. Quindi il positivismo, che trova un punto di svolta importante con le rivoluzioni, in particolare con la rivoluzione francese, è totalitario in una duplice dimensione. E' totalitario perché riduce il diritto alla sola norma positiva, alla sola norma posta dal potere, e non si interroga circa il reale, l'autentico fondamento del diritto. Il fondamento del diritto, diceva Kant, è il caput mortum dei giuristi. Ma è totalitario anche in un altro senso, perché impone in maniera coercitiva, quindi attraverso l'uso della sanzione, il rispetto di un ordine. Attenzione, di qualunque ordine, di qualunque progetto. E quindi quella che noi pensiamo essere la volontà del cittadino, altro non è che la volontà dello Stato. L'espressione della volontà generale di Rousseau è in realtà la volontà dell'ordinamento, la volontà dello Stato stesso. E quindi capite che in questa prospettiva la vera fonte del diritto, che cos'è? È il potere. È il potere spesso solo formalmente qualificato. Oggi si potrebbe dire, ma no, le leggi sono il frutto di una decisione della maggioranza etero-diretta, aggiungo io. Però attenzione, il numero, la procedura, possono attenuare la brutalità del potere. ma non ne cancellano le razionalità. Sono maschere, sono finzioni, sono parvenze. Non c'è brutalità nel potere, nella conversione in legge dei decreti dell'emergenza che sospendevano dal lavoro ed esclusivano dalla retribuzione da qualunque altro emolumento chi non si sottoponeva alla vaccinazione contro l'agente virale SARS-CoV-2. Eppure c'era un decreto legge adottato dal governo, c'era una conversione in legge formale da parte delle camere, quindi la legge è frutto di una decisione della maggioranza, poi il governo poneva, come sappiamo, la questione di fiducia per blindare il testo, però che cosa nasconde la procedura, il numero, se non la irrazionalità e anche la antiscientificità di certe misure? Quindi abbiamo capito finora che il positivismo, il positivismo totalitario, il positivismo della modernità, si fonda su tre presupposti. Due li abbiamo visti. L'effettività del diritto come essenza. Il diritto è tale perché può imporre un determinato ordine. Qui si potrebbe rilevare però che la coercizione è sempre esterna alla norma, non è una caratteristica della norma. Come insegna il professor Castellano, la coercizione può essere giuridico-antigiuridica, che in alcuni casi serve per imporre il bene, ma non è una caratteristica intrinseca alla norma positiva, intrinseca alla legge. Quindi anche dire che l'effettività del diritto concide e rappresenta la sua stessa essenza è una definizione contraddittoria, problematica. Il secondo elemento del positivismo totalitario, il diritto scaturisce dalle fonti di produzione. I diritti sono tali perché li ha previsti la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Nonostante il riferimento alla inalielabilità, alla naturalità, ma abbiamo visto che è un diritto naturale razionalistico, moderno, non classico, cattivo, brutto. Il diritto scaturisce dalle fonti. Cosa insegniamo? Cosa si insegna di solito? Le fonti sono quegli atti, fatti, normativi, abilitati a costituire l'ordinamento. Se questo è vero, allora, il diritto dipende dalla volontà. Attenzione, da qualunque volontà, anche negativa, anche malvagia, di chi, in un dato momento storico, detiene il potere. E in realtà, semmai, le fonti dovrebbero essere degli strumenti. Cicerone le chiamava le razioni srecte per adottare delle norme conformi a giustizia, cioè conformi all'ordine naturale. Ma c'è un terzo elemento del positivismo totalitario e che nelle rivoluzioni, in particolare nella rivoluzione francese, troviamo già pronto per esplicarsi poi in tutto l'Ottocento e il Novecento. La certezza del diritto. Tante volte oggi sentiamo dire il diritto deve essere certo, deve essere sicuro. Ma attenzione, per il giust positivismo il diritto è l'espressione della volontà del sovrano, del potere. Ma se è tale, esso assume un contenuto variabile, incerto, perché la volontà del sovrano, del potere, non è ferma, non è immutabile, è in divenire, cambia a seconda dell'ideologia che si afferma via via all'interno della società civile. Certezza del diritto, diritto come effettività, il diritto che scaturisce dalle fonti. Sono i tre cardini su cui si fonda il positivismo giuridico moderno. Ma sono tre cardini problematici, sono tre cardini contraddittori, sono tre cardini che cadono in delle vere e proprie aporie. Qualcuno ha detto ma questa è una forma di modernità forte, proprio perché il diritto è effettivo, proprio perché il diritto scaturisce dalle fonti, proprio perché il diritto è certo, io posso garantire la convivenza tra gli uomini all'interno della società. e a parte il fatto che quella che viene definita convivenza è un mero stare insieme, tra il mero stare insieme e la convivenza c'è differenza. Ma attenzione, all'interno del gius positivismo, anche di questo gius positivismo forte, non c'è nessuna autentica finalità, attenti bene, autentica finalità per la persona umana. ci sono certo dei fini, degli scopi mutabili a seconda dell'ideologia del momento, ma sono dei fini effimeri, contingenti, transitori. Ma il gius positivismo non solo non risponde alla domanda di qual è il fondamento del diritto, ma nemmeno è in grado di dirci, perché non c'è, qual è la autentica, la vera finalità dello stare insieme e quindi del diritto stesso. Non risponde a questa domanda. Ecco perché il gius positivismo è via al relativismo e al nichilismo, perché ogni fine va bene a seconda delle continue aggregazioni del pluralismo. ma c'è anche un secondo positivismo ed è il positivismo in cui viviamo oggi. C'è un positivismo debole, compromissorio, che porta alle estreme conseguenze all'impostazione relativistica del positivismo forte e approda oggi a degli esiti tragicamente nichilistici in cui, come dice Nietzsche nella Gaia Scienza, nulla rimane nelle mani dell'uomo. E il gius positivismo debole, quello in cui noi viviamo oggi, è ancora un gius positivismo totalitario. Dalla sovranità dello Stato, 700, 800, già con la prima e la seconda guerra mondiale inizia a incrinarsi l'idea dello Stato-nazione, poi a partire dalla seconda guerra mondiale questo è evidente, lo Stato-nazione è sempre di più eroso. Ecco, dalla sovranità dello Stato si passa oggi alla sovranità dell'individuo. La sua autodeterminazione, il suo velle volutum diventa il cuore, diventa il centro. Certo, lo Stato è un punto di riferimento ma è progressivamente eroso dai poteri sovranazionari, il Consiglio d'Europa, la Nato, l'Unione Europea, l'ONU. Gius positivismo forte, 700, 800, inizio 900, gius positivismo debole, quello che si afferma gradualmente dopo il settembre del 1945, cioè dopo la fine della seconda guerra mondiale. guerra mondiale. In cui si affermano tutta una serie di organismi internazionali e in cui, grazie anche al principio personalistico, dalla sovranità dello Stato si passa, entro certi limiti, alla sovranità dell'individuo. Cioè all'individuo che può autodeterminarsi. Qualcuno dirà, entro certi limiti. Sì, ma sono limiti contenuti nell'ordinamento positivo e quindi spostabili in avanti di volta in volta. l'aborto, cambio di sesso, divorzio, le unioni civili, la non punibilità a certe condizioni secondo la Corte Costituzionale del suicidio assistito, la legge sul consenso informato, la legge ordinare dello Stato numero 219 del 2017, l'anticamera per l'eutanasia. Che cos'è? Fino a che punto tengono i limiti stabiliti anche recentemente dalla Corte Costituzionale? In un sistema positivistico questi limiti vengono spostati. Quindi sono limiti relativi. non sono principi che stanno e non si fanno spostare. E quindi il giuspositivismo debole, quello che si afferma gradualmente a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, irrobustisce i presupposti della modernità giuridica e afferma sempre di più la religione dei diritti. E quindi grazie al sistema geometrico legale, grazie allo smittismo sociale, ogni pretesa si fa diritto soggettivo. Commentavamo su Triari Web TV con Massimo e Antonio di un ragazzo che in Scozia si presenta a scuola e pretende di farsi riconoscere come un lupo. A noi fa sorridere, però questa è la conseguenza della postmodernità, dove la legge diventa liberazione dal diritto. Quanto è forte l'ideologia marxista sotto, è innervata di marxismo questa impostazione. E quindi è strumento per trasformare ogni desiderio in facultas agendi, in un diritto soggettivo. Sotto la legge, con la legge, tutto è possibile. perché non c'è nessun ordine che orienta, nessun criterio ordinatore. Ecco, per questo io sostengo proprio davvero alla luce sulla scia di autorevoli maestri Giovanni Turgo, Miguel Aiuso, Danilo Castellano, che oggi l'unico meta-valore assoluto imposto dalla dogmatica costituzionale agli stati, stati che poi sono sempre più erosi, è la coesistenza di ogni contenuto e il loro continuo bilanciamento. A questo sta portando il giuspositivismo debole. Le costituzioni moderne sono fondamentalmente avaloriali, non hanno valori. E anche avessero valori, insegnava Kajmit, i valori cambiano nel tempo e un valore è tiranno rispetto agli altri valori, a seconda dell'ideologia dominante. Scordatevi che la Costituzione sia in grado di limitare il potere e che abbia dei valori, perché non li ha, perché non può averli, perché l'unico metavalore assoluto lo scriveva Gustavo Zagrebeschi nel 1992 nel suo diritto mite è il continuo bilanciamento di interessi di valori contrapposti. Sentenza 27 del 75 sull'aborto che anticipa la 194, classico esempio nei manuali, il bilanciamento, che cosa dice? Diritto della madre e diritto del concepito. Cosa sta facendo? sta tutelando A e B e non sta tutelando né A e né B. Questo sta facendo. Quindi oggi qual è il vero fine del costituzionalismo e del gius positivismo debole che lo innerva? Uno solo, l'indifferentismo. E l'indifferentismo che cos'è? Se non la forma più alta, più grave e più pericolosa di totalitarismo. perché l'indifferentismo porta, e io l'ho detto tante volte, lo ripeto in questa sede, a tollerare e a istituzionalizzare il male. Questo stanno facendo le costituzioni. E quando vengono date ai ragazzi che compiono i 18 anni, quando è fissata la maggiore età per l'articolo 2 del codice civile, gli si sta dicendo tu con questa costituzione hai i tuoi diritti i tuoi doveri, io dico ai ragazzi buttatela via, stracciatela. Perché quello che vi stanno dando è il trionfo dell'indifferentismo. Capite che in questa prospettiva a gioco facile la corte costituzionale italiana, ma non solo quella italiana, le corti costituzionali. Cosa stanno facendo le corti? Colonialismo giurisdizionale. E si considerano la norma non come la prescrizione in sé, ma come il materiale per costruire la prescrizione. I nuovi diritti, benvenuti nei nuovi diritti. Il diritto a farmi riconoscere come lupo all'interno di una scuola. Attenzione. E allora la democrazia moderna, no, le rivoluzioni sono quelle che hanno fatto nascere la democrazia moderna, eccetera, ma la democrazia è la più totalitaria di tutte le altre forme di totalitarismo. Perché? Perché la democrazia ha se stessa come unico valore rinunciabile e non ammette altri valori che quelli contingenti voluti dalla maggioranza, che poi devono essere continuamente bilanciati favorendo quell'indifferentismo di cui dicevo prima. Noi stiamo vivendo in una grande finzione. Noi stiamo vivendo in una grande finzione. La rivoluzione ci sta portando a vivere in una grande finzione. c'è una risposta contro-rivoluzionaria di fronte ai danni della rivoluzione e poi la rivoluzione è un prodotto della modernità. Sì, la risposta era il ritorno al diritto naturale classico e alla legge naturale, al diritto naturale buono, non al diritto naturale razionalistico, cioè che considera la ragione superiore alla verità, essa stessa criterio della verità. ma che fa della ragione come una cosa che scopre delle inclinazioni che sono presenti nella natura dell'uomo. Ma non è essa il criterio della verità, scopre la verità che è diversa. Capite la prospettiva tra il gius naturalismo moderno e quello classico? Capite che c'è una differenza? Prima con Massimo dicevamo uno buono uno cattivo. Però davanti al diritto naturale voi oggi sentite delle obiezioni. magari fossero tutti all'università come Giovanni Turco, Danilo Castellano, Miguel Aiuso, l'amico Rudi Di Marco e altri, magari fossero così. Purtroppo le università statali, private e italiane non vanno in questa direzione, sono innervate di us positivismo. Oggi si obietta che il diritto naturale sia una formazione metastorica. Si obietta come il giusto e l'ingiusto costituiscano un criterio cronologico e geografico, benedetto croce, con il suo empirismo storicista assoluto. Ma vedete, il gius naturalismo vero, non quello che fa della ragione il criterio della verità, ma quello che fa della ragione quale è che contempla la verità, capite la diversa prospettiva, trova il suo fondamento nell'unica cosa che rimane sempre, nonostante il divenire dell'essere. che cos'è l'ordine dell'uomo, la sua dimensione ontologica. Solo così il diritto naturale diventa criterio di giustizia, criterio di umanità fondamentale. Se abbandoniamo il diritto naturale, aveva ragione Eugenio De Carlo, il diritto si arresta alle colonne d'Ercole della forza, della brutalità. Però bisogna dimostrarlo. Bisogna dimostrare all'interno di un pensiero postmoderno che nega che l'uomo abbia una propria natura, che questa natura esiste. Bisogna dimostrarlo. E quindi il compito della controrivoluzione è un compito non solo distruttivo, ma anche costruttivo. Cos'è questa natura? Jung mi direbbe che la natura ha una pluralità di significati. E' vero, la natura può essere intesa in senso biologico, in senso fenomenico, in senso fisicista, ma in tutti questi casi la natura qui assume una funzione descrittiva di una parte. Tommaso invece, e prima ancora Aristotele, guarda invece non alla struttura, non descrive la natura, ma ne individua il contenuto sulla base della finalità. La natura ha una dimensione fidalistica, entelechiale, diremo, con un'espressione aristotelica. Antonino Poppi lo scrive molto bene, la natura, che non è biologica, che non è fisicista, che non è fenomenica, che non è qualcosa di astratto, è una tensione da parte di questo corpo, di questa carne, di questa anima, verso il bene da parte dell'uomo. Una tensione che porta a raggiungere un certo risultato. Aristotele nella politica ci dice che quel che ogni cosa viene a essere al termine del suo sviluppo, noi lo diciamo essere la sua natura. Questa tensione che l'uomo ha e che lo diversifica da tutti gli altri enti, che cos'è? In cosa consiste questa tensione? Vivere, e non sto dicendo che sia facile farlo, vivere secondo la ragione contemplativa, cioè quella ragione che riconosce delle inclinazioni ma che porta a realizzarle concretamente. Quindi non è un discorso campato per aria. Vivere in società, il provocarsi continuamente, conservare la propria vita, cercare il senso ultimo delle cose. Cioè, la ragione è il criterio, la ragione contemplativa, rivelativo della moralità ed è lo stesso agire giuridico. Attenzione, non nel senso hegeliano, per cui ogni atto della ragione è realtà eticamente positiva e perfetta, perché cadremo nell'idealismo hegeliano, ma nel senso più modesto, realistico, cioè la ragione contemplativa è quella che cerca di comprendere, anche con fatica, anche con sforzo, e di valutare quali siano gli atti conformi alla nostra natura. Natura intesa come tensione verso determinati fini, verso determinati scopi. Tommaso, nel secondo libro del commento alle sentenze di Pietro Lombardo, scrive che regula humanorum actum non est ratio quelibet, sed ratio recta, cioè che la regola degli atti umani non è la ragione qualunque, perché la ragione mi può inclinare anche al male, mi può portare a deviare dall'ordine naturale, ma è la ragione retta, è la ragione retta, è la ragione contemplativa che guarda l'essenza della persona e che scopre in quella essenza, nel fatto di essere l'uomo un animale razionale, delle inclinazioni che perfezionano questa sua razionalità, che lo rendono veramente tale, sia nella vita terrena, sia, Tommaso dirà poi anche nella beatitudine, nella vita che non finisce, nella vita ultraterrena. Ovviamente questa natura non è una realtà assoluta, non è una realtà che si autopone come vuole lo spirito egeliano dell'idealismo, bensì dipende da quella realtà che è Dio, che non è problematica, che non è contingente come la nostra. Allora capite che il diritto naturale richiama un'antropologia che a sua volta rimanda a una ontologia ma che in ultima istanza richiama un principio trascendente assoluto, fonte prima e causa di ogni essere. E se questo principio non fosse l'ipsum esse subsistence Dio, colui, io sono colui che è tra i quattordici nell'esodo, allora sarebbe potenza e dunque soggetto al divenire e alla contingenza mentre dobbiamo avere in sé quel principio che muove ma che non viene mosso da altro altrimenti ritorneremo fino all'infinito. E questa riflessione resiste anche alla legge di Hume la legge che oggi viene mossa dal mondo positivistico per cui cosa parlate? Ma quale natura? Ma di che natura parlate? La natura indica non comanda e quindi Hume avrebbe gioco facile a dire come fai a passare dall'essere al dover essere la natura non comanda nulla indica descrive tu crei un salto logico che non è ammesso direbbe Hume questa grande obiezione di Hume in realtà però come possiamo rispondere a Hume che in realtà non c'è alcun passaggio in debito tra proposizioni di genere diverso perché perché la prescrittività di un determinato comportamento è già contenuta è già iscritta nella struttura naturale dell'uomo nel suo stesso essere cioè l'essere ha già in sé dei fini teleologicamente in esso iscritti tutta la metafisica dell'esperienza di Enrico Berti su questo è stato un maestro ma oggi si nega ma l'uomo non ha una sua natura questa è la grande argomentazione del pensiero contemporaneo l'uomo non ha una natura negando la natura tu oggi puoi legittimare il gender puoi legittimare qualunque cosa provate a negarla facciamo l'affermazione al contrario l'uomo non ha una sua natura allora bisognerebbe dimostrare che l'uomo è indifferente a essere ciò che è oppure un'altra cosa che per l'uomo è indifferente a essere questo telefonino questo microfono questa bottiglia piuttosto che essere quello che è capite che cadiamo in una contraddizione oppure dovremo dimostrare che per l'uomo è indifferente tendere al proprio bene o distruggersi vivere o morire uccidersi è la stessa cosa capite che l'evidenza delle cose mostra il contrario e quindi quando il pensiero nega l'esistenza di una natura finalistica è indifferente e lecchiale cade in un'evidente contraddizione è stato obiettato a Tommaso Hans Welzel nel suo testo diritto naturale giustizia materiale che per quanto il dottor angelico definisca l'uomo in funzione del suo fine abbiamo visto che Tommaso definisce la natura in una prospettiva finalistica ovvero come animale razionale alla fine Tommaso confessa che l'uomo possiede due nature una razionale e una sensibile scrive Welzel e da quest'ultima da quella sensibile deduce il peccato il vizio l'errore allora obietta Welzel se è così se la natura può essere razionale e sensibile e se dalla natura sensibile deriva anche l'errore lo sbaglio la natura non è più il criterio per conoscere il bene e il male Tommaso secondo Welzel sarebbe caduto in un appetizio principi poiché prima stabilisce ciò che è buono quello che è buono viene assunto come naturale e poi viene usato come conoscenza del buono però la teoria di Welzel Welzel è un giurista filosofo tedesco 1904 1967 non regge Tommaso non distingue due natura dell'uomo la natura dell'uomo è una sola costituita da anima e corpo e l'anima è la forma del corpo l'anima intellettiva che nella persona umana compie anche la funzione sensitiva e vegetativa non c'è la distinzione che farà Aristotele o meglio c'è ma sono le funzioni dell'anima intellettiva fa anche le funzioni dell'anima vegetativa e sensitiva indica sempre alla persona illuminata non dalla ragione ma dalla retta ragione la sua inclinazione essenziale quindi non è vero che la natura non è il criterio perché la natura illuminata dalla retta ragione indica all'uomo quella che è la finalità essenziale certo l'anima può essere guidata anche dall'inclinazione al male certamente ma allora non è un'anima guidata dalla retta ragione ma da una ragione che segue i desideri disordinati e in questo caso si agisce preterrazione al di fuori della ragione cioè seguendo delle inclinazioni non essenziali e che possono portare l'uomo a compiere il male a compiere degli atti disordinati in questo quadro di recupero della legge naturale contro evoluzionario e mi avvio la conclusione quale posto occupa la legge umana Tommaso la chiama l'ex umana la modernità la chiama legge positiva il diritto naturale buono il diritto naturale classico non la nega non nega la legge umana ma svolge rispetto ad essa la funzione di criteri ordinatore il rapporto tra il diritto naturale e la legge umana è un rapporto di ordine cioè il diritto naturale dà alla legge umana quei criteri per poter essere indirizzata al vero al bello al giusto a quelli che sono i grandi trascendentali la legge umana pertanto è utile e doverosa nella misura in cui realizza soprattutto per modum determinazionis concretamente la giustizia prevista della legge naturale la legge naturale non prevede tutto la legge naturale ha un principio generalissimo fare il bene evitare il male e poi tutta una serie di corollari ha bisogno di essere specificata di essere integrata dalla legge umana ecco allora che se l'omicidio di una persona uccidere una persona va contro la legge naturale è un principio di legge naturale la legge umana stabilirà il tipo di pena per un certo tipo di reato le circostanze eventualmente attenuanti aggravanti quindi non è vero che il diritto naturale nega l'esistenza della legge umana attribuisce alla legge umana la funzione di attuare di integrare il perimetro stabilito dalla legge naturale ed è qui che si gioca la partita della libertà dell'uomo ed è la partita del bene è la partita del bene capite il compito che ha il legislatore il vero legislatore è colui che come dice Tommaso nella Somma ha abbaeo qui curam comunità di sabet ha cura della comunità la ama è parte integrante della comunità non è sopra la comunità non c'è il patto obesiano non c'è è parte integrante vive le gioie e i dolori di quella comunità perché ne è parte integrante e allora il richiamo al diritto naturale in termini contro rivoluzionari che cos'è è l'unica soluzione per tornare a quella identità di certezza e verità di pensiero ed essere quel realismo di cui poi penso che parla anche Giovanni dopo nella sua relazione che la filosofia moderna a partire da Cartesio ha alterato ponendo le premesse per una ragione debole calcolatrice dominatrice dell'essere e volta a superarlo perché il transumanesimo è superare l'essere scrive Cicerone e chiudo nel nel Delegibus se la volontà popolare o un decreto del sovrano o una disposizione della magistratura fossero sufficienti a far sì che una cosa diventi giusta allora basterebbe un semplice voto della maggioranza per far considerare giusta e legittima la rapina l'adulterio la falsificazione dei testamenti eccetera ma la vera norma continua Cicerone nel Delegibus che distingue ciò che è giusto e ciò che è ingiusto secondo la natura stessa delle cose è questa la vera legge è questa l'autentica legge in caso diverso una legge non solo non dovrebbe essere considerata tale ma neppure dovrebbe averne il nome grazie a tutti questo sarebbe la lezione in Cina da quattro soldi del professor Trabunco diciamo così grazie Daniele veramente hai fatto un quadro ottimo diciamo così di tutto quello che pensavo che dovessi dire quindi veramente grazie e pensavo adesso casomai lasciamo uno spazio qualche domanda se c'è pensavo appunto questo ricordate ieri quando nella mia conferenza introduttiva ho parlato della famosa bussola nord, sud, est e ovest vero, buono, giusto e bello verità, bontà giustizia e bellezza stamattina con il professor Turco abbiamo valutato il servizio alla verità e anche in qualche modo la giustizia e adesso abbiamo approfondito specificamente il servizio alla giustizia evidentemente essere contro rivoluzionari significa stare al servizio della giustizia e la giustizia evidentemente è nel perimetro come ha detto Daniele della legge divina e della legge naturale altrimenti l'uomo si fa giustizia da sé non nel senso della vendetta personale quella c'è sempre stata e ci sarà sempre ma nel senso proprio purtroppo ai noi della struttura mentale della società e anche proprio quindi della politica e del convivere vale a dire si crea il bene e il male noi tutti abbiamo vissuto questo la stragrande maggioranza di noi o non era nata o era piccolino o era minorenne qualcuno di voi probabilmente non io ma qualcuno di voi potrebbe essere già maggiorenne ma quando si è votato per il divorzio e si è votato per l'aborto è un esempio classicissimo di quello che appunto stiamo dicendo esattamente Cicerone l'ha capito 2000 anni 2000 e passa anni fa con quella frase semplicissima banalissima ma ha detto una verità eterna sostanzialmente e mettendo già appunto il paletto tra una concezione giusta naturale del diritto e una invece ovviamente non si può dire rivoluzionaria perché a tempi di Cicerone non si poteva dire ma in un certo senso lo è cioè nel senso che praticamente è l'errore che poi porta alla rivoluzione siccome adesso siccome dopo cambiamo un po' argomento io direi le domande a Daniele se ci sono facciamole subito perché poi c'è un po' un cambio di argomento quindi qualcuno vuole fare qualche domanda qualche osservazione insomma questo aspetto appunto del corretto giusnaturalismo è in un certo senso dello ius gentium cioè del diritto delle genti perché comunque proprio perché noi crediamo nelle piccole comunità è importante il diritto delle genti il mostro il moloch globalista uccide lo ius gentium perché diventa una cosa unica quindi con chitte relazioni con i marziani con nessuno invece noi crediamo nelle comunità per cui naturalmente lo ius gentium è fondamentale quindi uno degli elementi di una sana società contro rivoluzionaria sarà proprio la riscoperta e deve essere scoperta anche da noi del diritto delle genti quando esso è sempre stato concepito in maniera naturale e corretta e su questo mi sento di dire non in maniera perfetta ci mancherebbe altro ma in maniera era accettabile che il pensiero classico non si distaccava da molto di molto da questo il pensiero classico era più deficitario sui rapporti personali sui rapporti intra alla società ma a livello di concetto naturale di ius gentium non si distaccava molto da bene Roma stessa chiaramente ha conquistato il mondo con la forza con la violenza io sono più forte di conquista e comando io ma ha sempre avuto il rispetto di tutti i popoli che ha sottomesso per questo l'impero è durato secoli quasi un millennio certamente dovevano stare in pace certamente dovevano pagare le tasse questo era fondamentale certamente dovevano rispettare il diritto romano ma quel diritto romano era sempre previsto in accordo con gli usi locali dei popoli conquistati questo è un punto fondamentale Roma non è andata in Grecia a dire avete sbagliato tutto adesso spaccate tutto e arriviamo noi noi abbiamo l'esempio pratico di questo incontrovertibile di Roma in Palestina ricordatevi sempre il procuratore romano di Girosalemme avrebbe dato un braccio una gamba e pure la testa per starsene in santa pace non gliene fregava niente dei farisei di Gesù non gliene poteva fregare di meno come si suole dire a Osford lui voleva solo stare in santa pace quella santa pace che lo ha portato la bigliaccheria all'ingiustizia ma fondamentalmente Roma quindi Roma manteneva le loro stanzi questo è oggettivo di tutti i popoli è un modo violento se si vuole con degli errori ma è un modo per mantenere lo just gentil non ce lo dimentichiamo mai questo invece la rivoluzione distrugge tutto questo come dicevamo stamattina Voltaire è ridicolo che tu hai una legge qua e una legge là deve essere tutto uguale apparentemente sembra logica la cosa e invece è la fine della libertà e del rispetto dell'identità dei popoli prego Guido una domanda di carattere storico all'amico Daniele ci sono alcuni che dicono che il recupero diciamo così del diritto romano avvenuto in Europa alla fine del Medioevo più o meno è stato più un danno che un bene perché ha diffuso un certo razionalismo diciamo così una certa mentalità anche assolutistica poi verrà chiamata assolutistica al di sopra di quelli che erano i diritti e i sistemi giuridici per esempio quelli germanici dell'epoca e c'è chi sostiene addirittura che questo ha contaminato un po' anche il diritto canonico della Chiesa quindi siccome le cose probabilmente non sono né tutte buone né tutte cattive cosa pensare di questa valutazione che ho letto da più parti grazie sì Guido allora questa l'avevo letta anch'io c'è questa questa lettura che va in questa direzione per cui il recupero del diritto romano avrebbe favorito addirittura accelerato quella prospettiva razionalistica che secondo me invece risale soprattutto alla crisi della scolastica classica e l'affermazione del volontarismo scotto o cam eccetera in realtà il recupero del diritto romano su questo Adriano Cavana ha scritto delle pagine memorabili da parte ad esempio di glossatori eccetera no andava inteso come fonte sussidiaria rispetto alle fonti agli iura propria lo ius comune aveva una funzione sussidiaria rispetto ai diritti locali rispetto agli iura propria io credo che certamente il ruolo del recupero del diritto romano soprattutto della compilazione giustinianea il corpo giuriscivili abbia in qualche modo comportato questa matrice razionalizzante come dici tu in parte in parte dovuta secondo me alla crisi proprio della razza contemplativa che si afferma con la crisi della scolastica quindi tra la fine del 200 e l'inizio 300 però credo che l'impostazione che veniva fatta del diritto romano del diritto romano come diritto comune lo gius comune il diritto dell'impero in realtà non andava nel senso di sopprimere le tradizioni giuridiche appunto quelle che venivano chiamate di iura propria ma svolgeva una funzione appunto sussidiaria cioè laddove gli iura propria non contemplavano la disciplina la previsione di un determinato allora interveniva il diritto romano questo era quello che poi avveniva realmente concretamente probabilmente la crisi della scolastica la visione da parte di alcuni o meglio l'interpretazione che è stata fatta dal diritto romano ha portato a questa direzione la direzione che dicevi tu però il rapporto non era un rapporto all'interno dell'impero totalizzante perché le iura propria erano la prima fonte del diritto rispetto al diritto romano inteso come diritto comune che svolgeva appunto questa funzione sussidiaria e questa funzione integrativa probabilmente questo tipo di interpretazione dato da alcuni e la crisi della scolastica può aver certamente favorito quella impostazione però il diritto romano aveva una funzione sussidiaria rispetto ai diritti locali su questo Cavana ha scritto delle opere zortane ha scritto delle opere importanti magistrali insomma a riguardo grazie prego se hanno delle domande prego di rispetto dei del diritto vigente nei popoli sottomessi ma il diritto il diritto britannico è un diritto di comolo fondamentalmente ha una tradizione molto diversa rispetto all'Europa continentale tra l'altro la Gran Bretagna non è mai stata sotto l'influenza dell'impero quindi non ha quella tradizione diciamo così del sacro romano impero quella tradizione romanistica di recupero del diritto romano la Gran Bretagna ha sempre seguito un sistema completamente diverso un sistema appunto di precedente vincolante un sistema giurisprudenziale pensiamo che in Gran Bretagna oggi non esiste una costituzione scritta esistono dei documenti costituzionali eh? sì è una buona cosa sì 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 anche Israele non ha una costituzione scritta però lì forse c'è qualche problemino c'è qualche problemino in più ecco eh? allora sì no volevo chiedere questo coerentemente con la premessa di ieri per cui tutto ciò di cui parliamo ha una grossa concretezza con la norma positiva ci misuriamo tutti i giorni no? e allora posto che il regime democratico a regime democratico sottintende questo indifferentismo e siamo arrivati alla tolleranza del male e ora siamo alla istituzionalizzazione del male secondo te Daniele quali sono che scenari e finali ci possono attendere rispetto a questo cioè per arrivare a un fondo per cui poi c'è il il salto per uscire perché stiamo sprofondando in una irrazionalità totale no? quando parliamo del futuro è sempre piuttosto difficile è una battuta che poi passiamo ad altro sì allora Daniele in parte che al peggio non c'è mai limite quindi io non credo che si toccherà cioè voglio dire il male non ha fondo purtroppo il male è male nella misura in cui peggiora sempre di più e quindi anche quando pensi di aver toccato il fondo c'è sempre un fondo ulteriore quindi le premesse oggi del giust positivismo debole che portano questa liberazione al diritto quindi questa liberazione alla giustizia vanno nella forma di un nichilismo più totale nichilismo che diventa che poi si traduce in un transumano cioè dove non si riconosce nemmeno più l'uomo sì ma questo è secondo me il mezzo lo strumento per arrivare addirittura questo a un post a un transumano a un post umano in cui l'uomo non riesce neanche più a definirlo secondo me noi a questo stiamo arrivando non siamo ancora arrivati e il problema è che tutto questo sta accadendo nella totale indifferenza purtroppo della stragrande non vi dico di tutti altrimenti non saremo qui nella stragrande maggioranza delle persone tutto questo non sta avvenendo chi è che oggi va a mettere in discussione il fondamento del diritto il fondamento della legge va ad analizzare quelli che sono i presupposti filosofici teoretici che stanno alla base della modernità e della postmodernità nessuno nessuno lo fa e quindi la gente oggi diventa soggetto passivo di un sistema davanti al quale non ha purtroppo neanche gli strumenti conoscitivi culturali filosofici per poter saper rispondere ecco perché diventano importanti secondo me occasioni di formazione di questo tipo per creare quella ne parlavamo prima pranzo quella forza argomentativa quella dimensione argomentativa per controbattere le aporie le contraddizioni del costituzionalismo della modernità della postmodernità e agli esiti tragici che però quando tu raggiungi un esito tragico in realtà ce n'è uno più tragico ancora perché dalla disforia di genere siamo arrivati alla disforia di specie cioè capisci che stiamo andando sempre peggio quindi diventa davvero importante un incontro e io ringrazio Daniele che ci ha aiutato in tutto questo grazie veramente applausi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti